Sono racchiuse in un documento di un paio di pagine le contradduzioni di Mario Mazzocca alle accuse mosse verso di lui dalla procura di Pescara, che ha ottenuto il rinvio a giudizio da parte del GUP del Tribunale Adriatico nell'ambito dell'inchiesta Soget che riguarda i crediti inesigibili del comune di Pescara e che vede Mazzocca imputato assieme a Lorenzo Sospiri e a due dirigenti dell'ACA, Gaetano Monaco e Domenico Ludovico, accusati a vario titolo di abuso d'ufficio in concorso, falsa attestazione a pubblico ufficiale e falso ideologico in concorso. Mazzocca si dice convinto della sua estranetà e i fatti e danneggiato dall'ACA. Nessun favoritismo quindi, ribadisce il sottosegretario. La delibera di giunta del comune di Caramanico che, secondo l'accusa, avrebbe favorito ACA, è stata votata all'unanimità e non a maggioranza, spiega Mazzocca. In più, il debito con ACA di 22.000 euro circa, dovuto ad una rottura di una condotta per un locale adibito a cantine non utilizzato, è stato saldato a maggio del 2016, dilazionato in 14 rate. Mazzocca annuncia azioni legali contro l'ACA, che a suo dire è l'unica responsabile della situazione venutasi a creare e che ha portato al suo rinvio a giudizio. Per quanto mi riguarda, fin da domani interesserò il mio regale per avviare una decisa azione esercitoria nei confronti di ACA, a fine di accertare la vicenda e soprattutto per avere un risarcimento di un danno che io ho finora subito e su cui a questo punto non voglio più soprassedere. Chiaramente l'atto immediatamente successivo all'avanzamento di questa azione esercitoria sarà quella di riconsegnare nelle mani del Presidente D'Alfonso la mia delega al servizio idrico integrato per evitare anche solo ipotetiche e possibili situazioni di incompatibilità.